NEL PRECEDENTE EPISODIO DI LUCIUS Mwahahahah Abbiamo un altro cadavere qui Puoi prendere la pistola e lo spada dico Vaffanculo che faccia quello che dico io Tu non sei mia madre Tu non sei mia madre Piu 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 What's up man? Ciao Bellino Un episodio di Lucius Speriamo che sia l'ultimo perché manca davvero poca poca gente Allora Nancy dobbiamo uccidere le mammine Le cavallone praticamente Ci sono molte cose Prendilo Mette la spina Inizia la spina Poi Ti dice che non c'è corrente Spera cos'è? Abbiamo raccolto questo Ok Poi Facciamo così Facciamo uno E due Perfetto E andiamo ad uccidere Andiamo ad uccidere Mammina Mammina tra poco sono da te Tu pensa a cantare che tra poco ti vedono X Factor O amici Scegli tu Oddio santo Perché c'ho adesso Giata Salve Si Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Ok poi di qua Perfetto Poi di qua Sì Poi L'idea mia di andare a prendere il fuso era corretta Un attimo solo Il fatto che voi dire dove cazzo è il fuso Eh Non mi preoccupate Eh Il fuso era questo figlio di puttana qua Ah Che noi non abbiamo visto Ah Ah Ora Se 2 più 2 fare 4 Oc Mere il fusibile Ora dovrebbe esserci corrente nel cavallo 1 Di sicuro come delle macchine già funzionano Certo ha tratto le prove Oh Mio dio Corri 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 più di vento Corri Ok papino Tu non hai visto niente E' vero Non ti spargliò vicino a lei Sicuro Ah ma spero un'altra panchina magari Ok Proprio vicino a lei Mi serve un po' da pes Ah No Mi sa che non dobbiamo più qua Sì Sente mai vicino 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 No 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 Non mi permette niente No Non mi metterò No Non mi metterò Il fatto che funzioni la macchina Può dire qualche cosa Ecco Oh Ok quindi Può mettere qua No La No Oh La terra Vedi Uscito Il marino No E tua mamma Ci fece da nonno Ok Q E' proprio che c'è stato trovato i corpi Cosa che renderà solamente più vulnerabile Avrò solo un'opportunità prima che possa resistere ai miei poteri E' ora di uccidere Mammina I'm trying to kill my mam I'm trying to kill my mam Controllo 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 Hi Daddy Va 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 Ahuario Non trovo Nooo Ti sei fatto Devi andare dietro perchè sei andato anzi Come cazzo fa Come cazzo fa Manco ciclope cazzo Non sei un X-Man Una f***ing X-Man Zitta! È l'indissima volta che faccio sta cazzo Un po' un po' Ha provato di infilarti tipo qua dentro Ragazzi Dove ha giobbare dal memore ragazzi Sono tutto È stato presente il più chiudo Allora, infila Ok, ok Ma certo, è stato usato per la prima Papà, mi prova le prove! Oh, corri! Oh, papino Sì, no, sorry papà Papà, velociano! Papà, io ho preso un po' Un po' di tempo Mamma mia, l'arc Però secondo me io dove mi sono messo all'inizio? Lui non mi ha trovato Dove? Io all'inizio stavo dietro là Forse lo devo controllare subito Per questo non me lo faccio Oh, oh, ti vede Ok Tutto l'inizio stavo 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 Aspetta, aspetta Fala qui c'è Fala qui c'è Bam Sban Vai cazzo, finalmente Ma vieni Power Oh, oh Nancy C'è C'è, aspetta Tempo 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 ma si è andato il becino di cazzo il barito riesco ancora a sentire lo sparo della pistola spara chiodi il tempo si fermò per un istante e improvvisamente il corpo della moglie di quel demente giaceva al suolo quando realizzammo cosa era successo Wagner era fuggito io ho preso a correre dietro convinto di acciuffare l'assassino ma mi sfuggì di nuovo Charles Wagner l'aveva acceso proprio davanti a noi e quando tentavo di acciuffarlo lui si diede alla fuga vissi alla gente di prendersi cura del bambino che aveva assistito al terribile omicidio e corsi dietro all'assassino stavo per acciuffarlo quando persi il controllo dell'auto e debbi quel dannato incidente cercai di avvisare i miei colleghi c'era il pericolo che Wagner tornasse alla villa ma non otteni risposta quando alla fine arrivai il peggio era già accaduto tutti forti filmato ma wow croce ovunque oddio what aspetta l'amore ti fa muore aspetta non mi cade non mi cagate in più mi chiamate anche lo psico si si come no per me per me oh guarda qui ops è partata oh non posso no lo devi fare a tempo no una volta vedi vedi pistola se non lo devo muore soltanto lo devo cliccare l'altra volta aspetta ok fuori uno a distruggere bruci devi sparare fuori tre tu ha sparato ok ah questo momento è capitato sicuro questo tagliamo la pancia oh a volo ma in tutte le volte se c'è il collo se c'è il collo se c'è il collo attenzione 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 se c'è il collo attenzione e fatti la basetta e il collo è andato questa cazza era potente poi lui sta così ma sarà stato io non è 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 stato io il giro è scivolato power ah fuori a tutto come fiamme non ho mai scorreggiato così forte non è mica mia ho fatto il fagiolo a mezzogiorno fanno male specialmente si sono fagioli domesticate wow che spazio mi fa male la pace sono da parlare ma c'è stai che fai non si è buonissimi ascoli è giunta la fine ah 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 probabilmente la filiata del gioco lo spero perché mi sono scorciato di ammazzare gente wow che significa che significa prima il Q nancy è crepata ok ah ti da tipo due cose su cui sceglie però ci sono stati sotto però ci riesco che mi potrebbero ah buono è morto il tizio ok ti da due cose su cui sceglie scegli il fuoco il fuoco il fuoco guarda che cazzo FIRE oh mio dio è tutto in fiamme questo succede quando mangia troppo pasta e fagiola tiè guarda che è rotto Hadouken no no non lo so è un prete quello no si questo è papino hi daddy si vedi è un prete ah il papà è il prete il papà è il padre è il padre tutti i morti si uuuu 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 uuuuu uuuu 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 power mi sai che devi darle fuoco ma dove sono hi eccolo eccolo non farti peccato non farti peccato aaaa devi scendiarmi capi Eccono 2 Eccolo Eccolo Anche di nuovo Ti becca Ti becca Tutto calcolato Io faccio così Io faccio Tuva Ries Udà Anche Come è andato Perché è andato Scappa Lucius Scappa come mai fatto Fai fuori sgambio la tua vita Non lo so, non lo so Attenzione E' morto pure lui? No Ok, ricaricati Lucius Fai, il potere è vero Ronda energetica Mamma Stai gandato Muai, aver crepato Tutti i bretti di questo fottuto posto di mierda Tu ancora Va Io t'ho visto, sa Aspetta Incentiamo questo No Non posso Daddy, where are you? More power Non direi che si può si trasforma Ma che potere Sta accadendo un po' tutto Daddy Papà, devi ragione Sono un anticristo che è figo Adesso però ti devo ammazzare Sei troppo coso Perché papino vero con le vie da ammazzo Papino vero Papino vero Oh, attenzione 3, 2 Olio pure E invece scende Olio pure Lo sta Un po' pancero Ciao Papino Vedi qua Bacino Eh si, con l'estintura che puoi fare? Daddy Eh eh, vuoi crepare? Daddy Vuoi crepare? Daddy, wow Oh 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 Aspè Che è sto Questa cosa si è mossa questa cosa Ah, infatti Ah, secondo me ti deve andare là sotto, hai capito? Eh si, aspetta un attimo però Non mi fai paura Ma è un po' difficile Oddio ci sta prendendo a... Dove posso mandare indietro, lo devo così, no? Potrei aprire Perché se ne è partita? Perché non c'era sotto Oh, ho capito, ok Beh, un po' difficile Ok, ok, siamo qua No Devi stare là sotto, hai capito? Si, Cristo, aspetta un attimo No, mettiti là sotto e lo fai... Eh no, mi vende con l'estintura Mi do il mio fuoco da qui Zitto Vai, 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 vai Vai Ma cosa vuoi fare? Ecco E' andato? Spadabamte! Ma abbiamo spadabamte! Così pari Esimilore Demano Mani indubbiamo Mani Cioè finisce così Dove esce poliziotti fuori Nalla Io zio e sono mio zio ci si fanno tutti quanti ma non sono stato io e was a me nanananananana vabbè quindi signori del gioco è finito lui ci si è ammazzati tutti chi sono dei dieti da bambino? c'era di Mac Muffin l'unico vivo Mac Muffin fa poco fa tu mi hai guardato fuoco in fiamme quindi se la serie vi è piaciuta commentate condividete se vi piacere ci vediamo la prossima serie di qualsiasi altra minchiata e ciao non vi fate ammazzare da Lucius mentre lui si carbonizza con te